Stamattina non fa per niente freddo. Stamattina ho fatto tutto quello che dovevo, siamo andati fino da Wawa adesso con Giorgia ma non è rimasto a casa. Siamo andati da Wawa dove ho preso il regalo per Sara che non vi faccio vedere perché se no lei vede questo video e poi... Sa regalo. Cioè in realtà questo qui è un pensierino. Poi il regalo vero ce l'ho a casa quello proprio per lei, questo qua è un pensiero in più. Sono in video lezione. Lei è in video lezione e adesso stiamo andando, lì dietro c'è Pia e adesso stiamo andando alla mia sorella così le porto il regalo a lei e alla mamma e quello per Luca. E poi andiamo, ci fermiamo lì a mangiare e poi torniamo a casa. E boh basta. Domani arriva il frigo. Frigo. E' la tv. Non vedo dove? Soprattutto del frigo. Frigo. Infatti oggi di pomeriggio ci saranno un po' di lavori da fare in cucina. Devo anche svuotare tutto il frigo. Cioè no, il frigo non lo posso svuotare adesso perché se no va tutto male. Però volevo spostarlo per pulirci sotto e per pulirlo dalle parti perché comunque in casa mia, poi non so in casa vostra, ma con i bambini mi va a finire di tutto sotto il frigo. E quindi volevo darci una pulita prima che domani vengano che poi bisogna levare il frigo. Devo anche capire a che ora vengono così almeno so quando sbaraccare. Infatti devo scrivere a Sara dopo mentre sono nella mia sorella perché le devo dire che domani, non so, volevo andare domani ma mi è venuto in mente adesso parlando con voi che domani partano il frigo. E devo vedere a che ora hanno deciso di fare la consegna perché se la fanno nel pomeriggio allora domani mattina posso andare da Sara. Se invece la fanno, mi stanno chiamando ma è un numero eh, se invece la fanno domani mattina non posso andare da Sara quindi però al massimo ci posso andare domani pomeriggio. Quindi adesso vediamo un attimino come di sentire quelli lì per la consegna. Devo chiedere a Maurizio e basta. Stamattina appunto ho fatto quelle cose e poi cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ma cosa stai? E niente adesso è passato, fermo il passaggio a livello per quello che vi stavo parlando. E' passato il treno quindi adesso mi muovo e andiamo alla mia sorella ci vediamo poi quando siamo là. Qui dove andiamo? Qui qui dove andiamo a vedere lì su? Qui dove andiamo a vedere lì? Come sentiamo? Che piano è lì? Tre e due. Ah mi chiude l'ascensore in mezzo alle sue porte. Via. Ciao Dove andiamo Pia? Dalla zia E dalla nonna Nonna Brava Di qua è la zia Guarda La Guardi c'è la zia Vai Uh il pupaccio di neve Il pacchettino L'alberello Tutte le decorazioni Luisa Ciao Luisa La mamma Che passa la tirataglia Gioco col bombone Pia Gioco Si chiama Tappo Hai visto che carino Sessi fammelo vedere anche a me Fammelo vedere da vecendo Che gli faccio capire che che comanda Rocchi com'è interessato a Tappo Hai visto che piccolo Luca cosa dici di Tappo? Vuoi affrezzarlo? Però potrebbe essere che ti rosicchia un po' Ti rosicchia un po' Hai visto? Hai visto? È un piccicchetto Eccolo Che bello Dove sei? Dani Tutti gli animali sono interessati al piccolo criccidino Come piccolo? Tranne Boba Lui non gliene frega una mazza di niente Hai visto? Ciao Bobin Bobin Ciao Qui c'è Giorgioina Ma perché te lo vuoi mangiare? Perché è buono E lì c'è il cammino decorato È veramente bello È lì i pesci Del fiume Allora Aggiornamento alle Aspettate che ve lo dico 17.30 Siamo tornati a casa Adesso stavo facendo un po' di merenda Giada l'ha fatto lei E ha esagerato un po' con la cremina Comunque sono andata Siamo passate a prendere l'acqua Come avete visto E poi adesso stavo preparando la cena E inoltre devo anche mettere Un po' più in ordine diciamo Sistemare un pochettino di più Qui in cucina Perché domani Vengono a portarci Le cose nuove che abbiamo preso da Euronix E quindi Devo sistemare un po' Comunque domani poi Quando arrivano ve le faccio vedere sicuramente E domani mattina invece Vado da Sa Adesso stavo mettendo sulla cena Se vi faccio vedere quello che faccio Allora per cena sto preparando i Cavolini di Bruxelles Che vado ad accompagnare ai rollini Di maiale E invece per Maurizio Gli hamburger E per Gabriele L'hamburger quello di prosciutto E basta Questo qui è tutto quello che faccio Cioè che faccio per cena E niente Ci aggiorniamo poi dopo Che tanto dobbiamo ancora aprire i calendari Allora per cena sto preparando i Cavolini di Bruxelles Che vado ad accompagnare ai rollini Di maiale E invece per Maurizio Gli hamburger E per Gabriele Ehm L'hamburger quello di prosciutto E basta Questo qui è tutto quello che faccio Cioè che faccio per cena Ehm E niente Ci aggiorniamo poi dopo Che tanto dobbiamo ancora aprire i calendari Fanno terapia Così non piangono Apri la casellina dai No questa 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 casellina Poi La dente Apri un po' di alto Guarda Tieni Prendi c'è con la tena Dai Veli dimmi Veli dimmi Veli dimmi Sì 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 Però prendo io E poi Bebba Aspetta 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 Cos'è La faccia di babbola No 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 Dai Ora io Non tutto assieme Pezzi piccoli Dai pezzi piccoli Che cos'è il 21 Un pupazzo di neve Sicuro No Campanelli Ah boh Non si capisce Che Allora Vediamo questo Vediamo cosa c'è in Inveroscento 21 Venti l'abbiamo aperto 21 No No Raggiù Ok Sabrina ci aiuta Mamma mia Allora c'è Aspetta Dammi C'è C'è Ok Un latte Reidratante Un latte Idratante Applicare quotidianamente Sul corpo Pelli secche Ecco Allora la pelle È grassissima Vabbè Sabrina Sabrina Allora è questo Comunque Mettiamolo da parte Oggi è il 20 Ma devi aprire anche il 20 Ancora Allora Aia Aia Che male Aia 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 Porca miseria Che dolore Perché hai diti grossi Allora Qui c'è un altro bocco Come Mamma Mi mamma Oh Non gridare Anzi no Questo no Questo è Yamco Oh Sì Abbiamo trovato C'è la scimmietta Questo qui è Yanco Aspetta Dimmi 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 dire che è vegeta normale Ho visto la tua blu No Hai visto male Questa è Kiki Sì C'è anche Kiki Che bella Gabri posso Gabri guarda c'è anche Kiki Gabri Guarda c'è anche Kiki Ma c'era 20 e 21 Scusa 2 Sì Il 20 la Gabriele l'aveva già aperto Ma quando Vabbè Dobbiamo metterli a posto Adesso apriamo quello dei gatti Dobbiamo aprire 20 21 3 4 Allora no Il 3 è già stato aperto Il 4 e il 5 Allora il 4 e il 5 E dai tu un attimo Allora dobbiamo aprire 5 6 20 21 Fatti Pia apri lì Pia Apri lì Dai Abbiamo trovato Abbiamo trovato I coricini Eh vuol dire che non sanno quando te lo parlo Abbiamo trovato i coricini Ok No Ma adesso hanno detto che hanno casino nei magazzini Sì Sei 20 Sei 20 Adesso Giada intanto apre il 20 Dai Mamma 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 Finalmente Ma vede Quelli chiari Non serve che giri tutte le va Che sono Pagottini ripieni di formaggio e pollame E pollame Beh Poi Facciamo un po' svelti perché c'è No Dai Adesso facciamo 5 E 21 No Pia ha aperto un altro No amore no 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 Dai Poi la mamma te ne fa aprire un altro Su Di nuovo con gli altri Oh qui sarà felice il micino Oggi il micino sarà felice E poi il numero che è qua Ok Chiara oggi dei nostri gioielli devi aprire tu Dai Bebe No Abbiamo trovato i cuoricini No No Non abbiamo trovato Sì 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 No No Sì Gli alberelli Gli alberelli Verocchio Olivia Poi 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 Ero 5 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 Ok Va bene Andiamo i gioielli Che prima Che prima Bebe Aspetta Lì c'è una forcina E' una ladra di posto Io dove aprire Ma se c'è anche il ventino Questi due elastici Le forcine non c'entrano Erano di quell'altra cadena Vai Giana dove sei Apri il ventuno Tu lo Dai Uuuuh Quale vuoi tra questi due Potete fare uno e uno Già la si prende tutto il set di Ola Io tutto quello Va bene Anche qua abbiamo trovato Allora tu ti prendi Cosa abbiamo trovato Già Questi qua Sennò piccoli Ma devi stare ferma Sabri guarda che ce ne sono due Che belle Poi apriamo le candele Vai Pia apri questo Così 20 e 21 Scusate Ti do una mano E' rossa Rossa Allusa E' buona Fammi sentire Buona E' mele cannella E' rossa Vieni Pia prendi anche questa E' rossa No 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 E' rossa Due candele rosse di fila Però questa non è mele cannella E' come con loro E' rossa Vedere No 23 sono scappati Niente Ocuri qualcuno Aveva fatto lo scherzetto No mercoledì Vabbè La gallina che canta Si va bene Basta Di chi hai questo colno E' 18 ma non lo puoi aprire No Ocura oggi Se oggi è il 20 Allora Del tè abbiamo Il 20 qua Bene E' il 21 qua E' il tè Ora guarda Il 20 e il 21 Qua 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 Ragazzi guardate cosa c'è Vediamo in casa No Dai Qui il tè nero breakfast Il 21 Il 21 Il 21 Lato qui Citron Gingham Brant Confit E ora abbiamo Quello che ci ha fatta la mamma Dini te Ah io mi sono fatta amare Il mio Il tuo Beba Di Dora Dai Dai aprite La vogliono vedere Si Che bello Anch'io finalmente Ce l'ho Lucidalabbra Alla vaniglia E poi c'ho Che bello Anche questa Crema Così c'ho tutte e due Questo qui È un Non lo so Fammi leggere Arrivo Eh maschietti Un momento Guardate tu È un balsamo doccia Ultranutriente Si Sabrina ha trovato Questo qui A forma di cuoricino Dai Dai Manuel e Gabriele Invece hanno trovato Una canottiera E Giorgia Oggi Oggi il telefono Già Ho già trovato Chi mi schiaccia Lì Questi Ombretti Wow Ok Avvo deciso Prima di iniziare Aprire i calendari Anche di aggiungere Il cavolo romanesco Così l'ho messo A cuocere A vapore Aspettiamo ancora un po' Perché non è pronto Intanto vado a cuocere Le altre cose Per noi Preparo questi Adesso vi faccio vedere I rollini Di carne e suina Farcito con spinacce E formaggio Vediamo un po' Come sono Mi ispiravano Visti dal volantino Vediamo se Sono buoni Mamma Qui c'è il principe Di Belè Prima di andare a dormire Volevo farvi vedere Cosa ho preso Dai cinesi Oggi Che ci sono andato Da Wawa Ho preso I fazzoletti Questi qui Della tenderly 10 più 2 A 99 centesimi Lino profumato Perché Siccome appunto Hanno avuto Raffreddore Ne hanno fatti fuori Un sacco Allora per avere Sempre scorta Preferisco Tenermene lì Poi Un set Da 6 bicchieri Perché Non ne abbiamo Quasi più Se non pochissimi E quindi Ho voluto Prenderne 6 nuovi Con questo motivo Qui Molto Molto carine Gli ho pagati Ma non tanto Però non mi ricordo Il prezzo preciso Comunque Non tanto Per 6 bicchieri Non più di 5 euro Comunque Mi hanno dato Poi come ogni anno Il calendario Che all'interno Ha come dice qui 60 euro Di buoni sconto Ogni mese Uno sconto Da 5 euro Vi faccio vedere Vedete Così È utilizzabile Solamente Nel mese In cui è stampato C'è anche scritto Sopra Ebraio Marcia E poi Il buono sconto Di 5 euro Valido Su una spesa Minima Di 30 euro Vabbè Dice che Non è convertibile Non è accumulabile Con altre opzioni Comunque Io mi trovo bene E E lo uso sempre L'anno scorso Purtroppo Non l'avevo preso E quest'anno Invece Sono felice Di essere riuscita A prenderlo E poi Ho preso Altre 2 o 3 cosine Per me Ve le faccio vedere Subito Ho preso Queste molle Colorate 6 pezzi Per tenere Le pagine Soprattutto Quando si vanno a mettere A sinistra Del bullet Per tenerle ferme Quando ci si Disegna sopra E per finire Mi sono prese Queste penne Colorate Ho preso Appunto Queste penne Che sono Tra le mie preferite Mi piace Come sono fatte E quindi Visto che devo Iniziare Le leggende Volevo delle penne Che mi piacessero Che mi piace anche Come scrivo Come si Come si Come si 1, 2, 3 Come on 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 Grazie a tutti.